buonasera ragazze ben ritrovati sul mio canale vi mostro brevemente indossati gli orecchini che saranno l'oggetto del prossimo del tutorial che vedrete fotografico realizzati con cabochon questi sono in vetro di 25 per 18 quindi se volete realizzarli cabochon 25 per 18 e una piattina più o meno di della lunghezza di 28 centimetri poi vabbè star a voi decidere se metterli se indossarli aia scusatemi posso farcela se indossarli con il decorino che va all'esterno del volto oppure all'interno io preferisco indossarli in in questo modo qua gli orecchini sono di facile esecuzione io utilizzo la base per la catena strass in generale perché con la colla faccio veramente disastri quindi preferisco mettere una base e cucire la catena strass sulla base e poi dopo andare a ricucire la piattina e tutto il quanto l'insieme il tutorial e fotografico ma è di semplice comprensione e niente fatemi sapere che ne pensate e niente nome non lo so poi lo vedrete direttamente nel video una volta che l'avrò montato e sono carini secondo me per l'estate con cabochon anche molto colorati sono sono particolari e niente questi sono gli orecchini come sempre buona creatività ciao ciao Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.